Ciao ragazze, benvenute alla nostra review Benecos, in questa review vi proponiamo due look. Uno lo indosso a Punta Veronica, l'altro lo indosso io e sono tutti e due realizzati con un marchio di cui andiamo tanto orgogliose che è Benecos, che è il marchio più bio e low cost. Ci siamo trovate bene con tutti i prodotti e ve ne parleremo nel dettaglio subito dopo questa clip. Spero che la review vi possa essere utile soprattutto per vedere i colori, gli swatches e tutte le info inerenti ai prodotti. Bene ragazzi, vi lasciamo la nostra review, grazie, ciao! Questo è il primo look, è stato realizzato con i prodotti che vedete qui sul banco, solo con questi prodotti esclusivamente e poi ovviamente con l'ausilio di pennelli. Allora, vi vado a parlare innanzitutto del primo prodotto che ho usato che è il fondotinta liquido. Questo è il numero uno praticamente, vi faccio vedere un po' com'è la texture di questo fondotinta. Questo è il colore più chiaro che si adatta al mio tono di pelle, è molto coprente e passoso come vedete, però sfumandolo si adatta perfettamente al mio colorito di pelle, coprendo le imperfezioni. Questo costa 6 euro e sono 30 ml di prodotto, si chiama Natural Creamy Makeup. Poi abbiamo la polvere minerale famosissima di Benecos, che costa solo 5 euro, è davvero un'ottima polvere minerale. Quando la si apre c'è il piumino, che però noi non l'abbiamo utilizzato, abbiamo usato il kabuki. E poi, come vedete, c'è la polvere che ho messo su, tipo cipria, quindi è andata ad opacizzare e a migliorare ulteriormente la coprenza del fondotinta fluido. È davvero un ottimo inizio per chi vuole cominciare ad usare un prodotto minerale e vuole spendere poco, quindi è veramente un buon prodotto. Poi il correttore, io ho usato quello un po' più scuro perché ho delle occhiaie che sinceramente con quello più chiaro mi dà troppo sul tono del grigiasso, invece questo me lo copre meglio. Swatch, è diciamo quasi un color pesca scuro, lo vado a tamponare e anche questo si adatta al mio colore di pelle. Questo qui invece costa 4,90. Per gli occhi, ho utilizzato questa matita, che è un colore, è tra il viola e il blu, mi pare che si chiama Night Blue, o Blue Night, ed è questo colore così. Le matite di Benecos sono matite casual, quindi vanno benissimo per l'interno degli occhi, sono molto morbidi e scriventi, costano solo 2,50 euro, quindi direi proprio un ottimo affare. L'unica cosa è che magari le colorazioni sono sempre quelle, cioè la Benecos come limite ha le poche colorazioni, per esempio i rossetti sono 10 o l'ucilabra sono 5, però per avvicinarsi al mondo del naturale, per avere comunque un buon prodotto, tranquillamente si può usare il prodotto Benecos. Poi, continuando per gli occhi, ho usato come ombretti il Duo, questo è il Noblesse, questo è a 3,50 euro, vi faccio uno swatch, questo è il marrone e questo è il rosa. Eccoli qua, vi faccio vedere anche applicati. Per invece l'angolo interno dell'occhio, ho utilizzato un ombretto cotto. Questo è il melange, che è un colore tra il viola, il marrone e il lilla, è molto molto particolare. Io non l'ho usato bagnato, ma in realtà questo ombretto usato bagnato rende molto di più. Io invece l'ho voluto provare, diciamo, così, non bagnato, ma comunque mi è piaciuto molto l'effetto, come vedete. È un metallizzato lilla, carinissimo. Sulle guance ho messo il blush, praticamente quello più scuro, perché bene cosa solo due colori di blush, c'è quello più chiaro, che ho utilizzato Lucrezia e questo più scuro. Potrà sembrarvi veramente scuro come blush, ma in realtà, diciamo, va applicato poco, sfumato, ed ha veramente un risultato molto naturale, ha un colorito sano, veramente molto carino. E costa 4,50 euro, lo stesso costo dell'ombretto cotto, quindi praticamente sono molto simili come prodotti, solo che questo è un potto per guance e questo è un potto per occhi, ma si tratta sempre di polveri cotte. Svoccio. Svocciamo anche questo, ma questo, va bene, potentemente svocciato, viene fuori così, poi ovviamente sfumato, è tutta un'altra storia, molto più portabile. Per le labbra ho utilizzato la matita, se non sbaglio questa è la pink, o comunque è il colore rosa. Matita e labbra di Beneco ce ne sono solo tre, quindi non vi potete sbagliare, diciamo, su questa. è un colore rosa abbastanza forte, io, diciamo, l'ho messo su tutta la linea delle labbra e l'ho sfumato molto. In questo modo, diciamo, comunque si intuona abbastanza il rossetto che ho messo, è molto carina. Tra l'altro costa 2,50 euro come la matita occhi. Come rossetto, invece, ho messo il pink rose, che è un colore che adoro, letteralmente. Ve lo swatcho anche questo, vicino alla matita labbra abbinata. Tutti i rossetti Beneco costano 4,70 euro. È un rosa, scuro, matte. L'unica cosa, i rossetti Beneco sono rossetti idratanti, quindi se avete labbra sottilissime, o sapete che per vostra abitudine tende a sbavare il rossetto, non va bene questo tipo di rossetto, perché non è pastoso, è molto idratante, quindi va bene anche per chi ha le labbra più carnose. E infine, i luci da labbra, mi ero perso un attimo. I luci da labbra, che anche questo mi piace tantissimo, questo è il Rose Garden. Non lo swatcho. C'è da dire che i luci da labbra di Benecos non sono troppo sbarrucicosi, ma allo stesso tempo sono molto colorati. Quindi non sono quei classici luci da labbra che sembrano colorati all'esterno, ma in realtà non lo sono, sono trasparenti. Questi sono proprio, come vedete, colorati. Cioè, io a volte li sostituisco anche al mio rossetto. E costano 4,40 euro. Quindi, ragazze, con veramente pochi euro, fatevi il conto, avete un look completo. Cioè, partire dal fondotinta al correttore, quindi Benecos sicuramente ha questo grandissimo vantaggio. E ora passiamo al secondo look, quello di Lucrezia. Parliamo della seconda carrellata di prodotti Benecos, e quindi vi parlerò del look che sto indossando oggi. Come correttore ho utilizzato lo stesso di Veronica, quindi non mi dilungherò su quello. E come fondotinta ho usato quello minerale, in tonalità sand. Ve lo faccio rivedere un secondo. E questo qui. È una polvere molto impalpabile, tant'è che non contiene talco. Quindi, sono veramente polveri molto sottili, non hanno un effetto farinoso sul viso, sono molto opacizzanti. Io mi sono trovata veramente molto bene con questo fondotinta minerale. Anche se non è tanto coprente, però l'effetto che dà è veramente molto piacevole. Ho utilizzato come ombretti questo duo, che si chiama Jungle, ed è composto da questi due colori molto molto belli e particolari. Questo verde petrolio molto scuro, opaco, con proprio lievi perlescenze dorate, e questo color vaniglia dorato. Anche questo poco perlescente. Questi ombretti hanno una texture molto morbida, anche se levemente farinosa, ma sono abbastanza pigmentati, devo dire. Poi, per il prezzo che hanno, sinceramente, mi sono trovata benissimo. E vi straconsiglio. Questo duo, in particolare, mi ha molto colpito, perché ha dei colori molto originali. Sì, mi si mette a fuoco. Come matita, ho utilizzato questo Kajal colorato, sempre verde petrolio, che si chiama Lip Green. Questa è la mina. E, come tutte le matite, il Kajal Benecos è davvero molto molto morbida, molto colorata, un'alta sfumabilità e anche un'alta durata all'interno dell'occhio. Per concludere con il look degli occhi, ho utilizzato questa matita per sopracciglia, in tonalità dark brown. A me piace moltissimo questa matita per sopracciglia, perché non è né morbida né dura. Nel senso, scrive molto bene sulle sopracciglia senza graffiare la zona perioculare, però allo stesso tempo non è morbida e non sbava. Matita per sopracciglia 3 euro. È dotata anche di questo scovolino, per mettervi un'alta sfumabilità nell'applicazione. Non so se si vede. Vedete? E si sfuma in questo modo. Per le labbra ho utilizzato la combo di questa matita, questo rossetto e questo lip gloss, che in ordine sono la matita e un color nude pescato. Ed è bellissima, veramente bella. Morbidissima, molto pigmentata. E come rossetto, la tonalità denominata soft coral, che abbinata alla matita, labbra, è perfetto. Sempre questo color pesca, molto caldo. Sono rossetti molto idratanti, mediamente pigmentati, molto lucidi come effetto. Infine, ho utilizzato questo bellissimo lip gloss, che si chiama Apricot. Anche questo è in tonalità pesca. Questo è lo scovolino, anzi la spugnetta. E sono dei lip gloss molto, molto pigmentati, ripeto, come quello che vi ho fatto vedere prima Veronica. Idratanti, durano a lungo, tant'è infatti che sono levemente appiccicosi. E molto lucidi, hanno tutta questa iridescenza levemente dorata all'interno. Molto, molto bello anche questo prodotto. Allora, questo è quanto. Spero che la review vi sia servita e a presto. Ciao!